BACONI TV Ciao amici di Balconi TV Roma, io sono Mika e questa è una nuova puntata, ci sono venuti a trovare i Rev Ciao ragazzi, benvenuti Ciao, bentrovata Come state? Siete carichi? Sì, sì, tutto bene Che cosa ci regalate? Un pezzo si chiama Fragile Perfetto, poi ne parliamo Ok Grazie a tutti Grazie a tutti Mi sfuggono Ocene e connessioni Le labrano Di modo no Le parole Emotivamente Estabile Fragile Emotivamente Fragile Fragile In anteprima Balconica Così, proprio come band ormai Non più come un side project Mi piace questa impostazione front to front Lo usate anche dal vivo? Sì, 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 suoniamo sempre dal vivo Così, è un po' intimo, un po' come stare in saletta Capito? Così, non avete più la pressure del pubblico che vi guarda Effettivamente si funziona? E' anche scenico Invece ci sono musicisti ospiti in questo album o farete tutto completamente da solo? Non lo sai ancora? Non lo so ancora perché siamo proprio in fase di scrittura Quindi probabilmente non lo escludo perché no Però ne riparleremo quando saremo in studio a quel punto Esatto Avete già un'idea di quando potrebbe uscire oppure è tutto molto fresco ancora? No, no, no Aspettiamo che i tempi siano quelli giusti Finiamo di lavorare al materiale Poi a quel punto decidiamo di fissarlo sul nastro Etichette, cose varie Così possiamo fare un appello per chi vuole? Guarda, il primo album l'ho fatto in autoproduzione quasi brutale direi Quindi sì, se qualche etichetta simpaticamente si affacciasse al mio campanello io apro Quindi registrate tutto a casa vostra? Adesso sì, poi vediamo Sì, sì, no, poi sicuramente in studio andremo a completare il tutto Però noi stiamo lavorando in maniera home recording Ma infatti noi siamo grandi fan del Do It Yourself quindi Ottimo ragazzi Davvero sono contenta che siete venuti qua a regalarci quest'anteprima E spero di vedervi presto per un full concert Va benissimo Quindi in bocca al lupo per questa scrittura E ci si vede presto Ciao Allora, ref per Balconi TV Roma Io sono sempre Mika Questo è il terrazzo dello Yellow Bar E ringraziamo anche Contessa Rockhair Ciao, grazie mille Ciao Ciao